Grazie Gaetano, tu hai detto bene, io partecipai a questa discussione in quanto giornalista e direttore di un giornale che tra l'altro per essere chiari fino in fondo si era schierato a favore del sì nel referendum sulla legge 40, faceva parte addirittura il comitato promotore del referendum per una serie di ragioni che non sto qui a ripetere. Quindi di fronte a questo dibattito noi ci formammo un'idea e finimmo col formarci un'idea che era più vicina a quelli che sostenevano, che erano contrari all'interruzione dei sostegni vitali a Eluane Englaro che agli altri. Le ragioni per cui questo avvenne e come ha detto bene Maurizio riguardarono non solo me, tanti laici, insomma hanno tratto considerazioni analoghe, sono ben descritte nel libro di Eugenia, molto ben descritte e soprattutto mantengono la loro grande attualità secondo me, che poi è la cosa di cui secondo me oggi andrebbe discusso. Esso appartengono a tre generi, a tre ordini di questioni, tutte e tre come vedrete chiamano in causa un interesse pubblico, generale, quindi non sono di origine confessionale o ideologica, restano vitali per una comunità che deve prendere delle decisioni, deve scegliere in un senso o in un altro, deve orientarsi secondo dei principi o dei valori. Sono queste questioni che sono di tre generi, dicevo, uno è un nucleo di problemi che potremmo definire etici, ma di etica pubblica, che è etica, lei ha detto è pur sempre etica pur essendo pubblica, è così, io dico l'opposto, è pur sempre pubblica pur essendo etica, nel senso che riguarda anche chi giudica di volta in volta, chi non è tenuto a un'osservanza, un'obbedienza alla fede o ai valori del cristianesimo. Il punto fondamentale, che nel libro è molto ben chiarito, è il punto di definire che cos'è la vita, cioè che cos'è una condizione meritevole di essere considerata vita e quindi di essere protetta e tutelata, assistita, accudita, perché il punto vero della vicenda Inglaro è questo, quando uno dei medici, diciamo favorevoli all'interruzione della vita di Eluana, dice ma è morta 17 anni fa, e quel è il punto, è morta 17 anni fa oppure no? A parte l'obiezione logica che si potrebbe muovere, ma se è morta perché riucciderla, cioè se è morta ed è dalle sue remisericordine, la quale dicono a noi sta benissimo che sia morta con noi, perché modificare questa condizione e se invece non è morta, nel senso che prova sofferenza, dolore, che potrebbe essere una delle ragioni per cui, allora perché non le consideri nel momento in cui decidi di sospendere l'idratazione e l'alimentazione, ma questa è un'obiezione logica e non mi concentrerai su questo. Il punto molto importante invece anche per quello che può produrre nel futuro è di allargare, per me, è di allargare il più possibile lo spettro, diciamo così, di condizioni in cui si può parlare di vita degna di essere vissuta, perché fuori da questo limite ci sono una serie di condizioni, gli anziani, i malati gravi, i malati psichici, i bambini, abbiamo avuto due casi, un caso in Inghilterra, abbastanza clamoroso, dove si trattava di un bambino, cioè ci sono tante persone che sono sul confine tra quella che puoi definire, secondo un certo set di valori vita è quello che puoi dire, che si può alzare qualcuno e dice ma questa non è vita, e allora lì comincia a diventare pericoloso, perché onestamente, qui l'autrice si chiama Eugenia, ma le derive eugenetiche non sono così nuove alla cultura occidentale, anche diciamo così a quella progressista di sinistra e così via, questo mi preoccupa molto, soprattutto per gli anziani, perché già oggi si cominciano a fare calcoli costi benefici nell'assistenza agli anziani, nell'intervento chirurgico da prestare oppure no, eccetera, eccetera, quindi questo è un punto molto molto delicato e da questo punto di vista è illuminante la dichiarazione che ho letto nel libro di Eugenia, a un certo punto fa proprio uno dei medici della clinica dove poi Eliana morirà e cioè lui dice il processo è questo, in questo momento è affetta da una patologia cronica, quando sospenderemo idratazione e alimentazione diventerà una malata terminale e a quel punto noi procederemo con l'assistenza alle pratiche che forniamo ai malati terminali, quindi non era una malata terminale, era affetta da una patologia cronica molto grave, estrema, ma pur sempre una patologia, quindi questo è un punto molto delicato e questa è la ragione per cui poi il tema della sacralità della vita non è solo cristiano, è anche della cultura precedente al cristianesimo, della cultura greca, della cultura classica e così via. Secondo punto è un nodo giuridico, un complesso di problemi giuridici perché se noi accettiamo il principio che discende da quello che ho detto finora, che qui c'è un interesse pubblico in gioco, un interesse generale che è quello di capire, di definire il grado di estensione della protezione della vita delle persone, degli esseri umani, bisogna capire nel campo giuridico chi rappresenta questo interesse pubblico e questo è un punto estremamente delicato, io non ripeterò il punto che avete sollevato voi anche allora, Parlamento, espressione della solidarietà popolare, giudice e quindi il diritto creativo, la sentenza creativa e così via, ma mi interessa ancora di più quello che dice Eugenia molto bene, cioè che all'interno stesso del processo giudiziario non c'è il punto di vista della sopravvivenza di Luana, perché esplicitamente, credo la Cassazione bocciando il ricorso della procura generale contro la sentenza della corte d'appello, dice che lo deve bocciare perché non c'è un interesse pubblico e generale in gioco, ma soltanto una tutela soggettiva è un diritto personalissimo del soggetto, che tra parentesi non esprime la sua opinione, perché il diritto è così personalissimo che però non lo conosciamo, però questo è un punto molto importante, anche all'interno di quel procedimento lì, anche senza considerare quello che poteva o non poteva fare il Parlamento, il conflitto di attribuzione e così via, dentro quel processo la voce del favorvite non si è espressa, non poteva esprimersi perché così è fatto il processo su quel punto. Quindi il terzo complesso di nodi è politico e cioè questo, innanzitutto l'estrema difficoltà della legislazione a venire a capo in maniera soddisfacente, per soddisfacente io intendo con un compromesso largamente accettabile, molto largamente accettabile, perché secondo me queste sono materie in cui o il compromesso è molto ampiamente accettabile o è meglio non legiferare, da un punto di vista liberale mi pare che sia impossibile decidere a maggioranze su queste cose per chiunque da qualsiasi punto di vista, ma anche legiferare è estremamente complesso, intanto perché ci sono una serie di cose che cambiano, la tecnologia, la medicina cambia in continuazione, ma poi vedete il caso della legge sul testamento biologico, è freschissima, è recentissima, deve essere ritoccata, rifatta, rivista perché la consulta ha detto, allora l'obiezione che diceva adesso Maurizio, se uno può morire in quel modo lì perché non può morire anche in un altro modo, la questione posta dal caso DJ Fabbo. Ma anche per un'altra ragione, perché il nodo politico riguarda anche un'altra questione che io considero molto importante, cioè io da laico sono un nostalgico dei valori non negoziabili, insomma adesso c'è un solo valore non negoziabile, il rimasto è quello di chiudere i porti agli immigranti, quello è non negoziabile, invece quello è tipicamente negoziabile, quella è una decisione politica, non dovrebbe essere un negoziabile, ma perché sono un nostalgico dei valori non negoziabili? Che sono un nostalgico dei valori, prima ancora se sono negoziabili o non sono negoziabili, penso che il dibattito pubblico e parlamentare dovrebbe svolgersi su una serie di principi e di valori che orientino la società, questa cosa è completamente scomparsa dal dibattito pubblico e ora diciamoci la verità, anche la questione che è nata dal UAN e scomparsa dal dibattito pubblico, tant'è vero che le ultime, le vicende più recenti sono passate completamente nel disinteresse generale, sono ormai battaglie che sono combattute, diciamo avanguardie, che tentano di spingere sempre più in là il limite, ma sostanzialmente non si è svolta la discussione che si svolse dieci anni fa e forse perché non ci sono più i valori in giro. Allora io quello che dico è che da un punto di vista di un laico io sento la mancanza e il bisogno che l'umanissimo cristiano partecipi alla discussione sui valori della società in cui viviamo perché il fatto che sia venuto meno sostanzialmente questo elemento del dibattito pubblico nel paese è un grave impoverimento ed è un pericoloso impoverimento, poi può essere anche che siamo su posizioni opposte su più di una questione che riguarderà il futuro perché la voglia alla bioetica quante ce ne porrà, però che manchi questo raffronto è un grave indebordimento del dibattito pubblico senza dire del tremore che mi prende a immaginare di leggiferare in questo Parlamento o magari anche in quello successivo su cose come queste, visto anche il livello che ha preso la discussione pubblica, la discussione politica e così via. Quindi mi domando non per ricostruire, io non sono un interno al dibattito aperto da sua eminenza ruini, cioè come ricostruire una presenza cattolica nella politica, però vi dico che da un punto di vista di un laico, di uno che vive nella società italiana il bisogno di avere un punto di vista cristiano della chiesa cattolica, dei cattolici in Italia è un'esigenza che forse dovreste porvi il problema di far rinascere. Grazie.